sto facendo questo video perché l'esposizione del phantom non reagisce in determinate situazioni allora partiamo dall'automatico quindi gestiamo tutto quanto in automatico e come vedete se vado a spostare ad esempio l'esposizione posso salire fino a più 3 e posso scendere fino a meno 3 spostandogli iso invece si andranno a modificare automaticamente lo shutter l'apertura in virtù dell'esposizione che rimarrà a 0 ritorniamo nel menu delle impostazioni e decidiamo di lavorare in manuale completamente in manuale completamente con un bilanciamento del bianco automatico quindi se io vado a cambiare gli iso vedete che adesso l'esposizione è meno 1,7 se io vado ad aumentare gli iso passa a meno 0,7 a più 0,3 oppure se dovessimo fare le cose fatte bene ci sposteremo sullo shutter che è una follia che abbia questa dimensione nel frattempo vedete che io cambio lo shutter e aumenta l'esposizione portiamo lo shutter a un centoventesimo e magari l'apertura l'andiamo a portare a 9 anche a 10 e lo shutter a questo punto lo spostiamo a un duecentesimo perfetto quindi funziona tutto benissimo ora ritorniamo sul menu andiamo a prendere il bilanciamento del bianco e decidiamo non di utilizzarlo automatico ma di utilizzarlo custom quindi sono io che decido a quanto portarlo e lo porto a 5600 kelvin andiamo a spostare gli iso e vediamo che da più 3 non si sposta anche se dovrebbe già aumentare continua a non spostarsi siamo già nettamente a più 2 ma lui mi segna un più 1 arriveremo a più 2 verso i 25600 iso ma capite bene che anche in questa posizione qui è un più 2 tranquillamente a 3200 iso e se voglio andare a abbassare l'esposizione quindi dovrò andare a aumentare la velocità di scatto e dovrebbe abbassarsi l'esposizione ma continua a rimanere a più 0,3 e non si sposta non c'è verso di farla spostare né così né così nulla se invece ritorno nel menu e il bilanciamento del bianco l'ho imposto come sunny perché oggi la giornata è soleggiata vedrete che l'esposizione già ha capito di essere a meno 1,7 quindi in questo caso andrò a diminuire l'apertura e riesco a raggiungere gli 0,7 o magari gestisco gli shutter a un duecento quarantesimo a un duecentesimo e l'apertura la porto a 9 ecco quindi funziona se è in automatico l'esposimetro proprio fisicamente l'esposimetro funziona se è in automatico se tutto è in automatico quindi se proprio fisicamente le impostazioni della telecamera sono in automatico mentre se è in manuale l'esposimetro funziona solo ed esclusivamente quando il bilanciamento del bianco che non c'entra niente con l'esposimetro sta in automatic white balance cloudy sunny incandescent neon ma non se utilizziamo il nostro custom spero vi sia stata utile un saluto a tutti quanti se non vi siete iscritti al mio canale iscrivetevi immediatamente e cliccate mi piace su questo video ciao 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 Grazie a tutti.